Un grazie a Metropolitani Milanesi e soprattutto al Comitato Cortili Solidali che ci ha aiutato a fare recitare anche gli inquilini delle case che vedete come sfondo alla nostra festa. Va bene, allora che lo spettacolo inizi, però voglio fare anche un po' di gossip perché sapete che l'opera I due timidi è di Nino Rota, sono 40 anni dalla morte dell'autore e il libretto è della grandissima sceneggiatrice Suso Cecchi d'Amico e qui con noi abbiamo due delle figlie di Suso Cecchi che sono venute da Roma.